Rafforziamo le misure di prevenzione anche sul versante degli istituti bancari, come abbiamo fatto qualche settimana fa con Poste Italiana, come continueremo a fare prossimamente con esercizi commerciali, con confesercenti e con commercio. È un percorso che va nella direzione del rafforzamento di un sistema di controlli in un contesto, quello della nostra provincia, che ha già alti livelli di sicurezza, ma rispetto ai quali, come spesso mi capite, non va mai abbassata la guardia. Ci sono delle misure particolari? Come adesso verificheremo, andiamo nel rafforzamento delle misure di autodifesa, con la sottoscrizione di questo documento che è il frutto e il portato di un'integrazione, un protocollo approvato e siglato con il Ministero dell'Interno, con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a dicembre del 2022. Quindi ci sono più misure che attengono in particolare a dispositivi interni, rispetto ai quali sarà il coordinatore di OSSIF che darà sicuramente utili indicazioni. Innanzitutto è bene dire che non c'è un pacchetto predeterminato valido in tutte le dipendenze, ma cosa importante, c'è una valutazione del rischio che le banche fanno per ciascuna dipendenza e per ciascuna apparecchiatura ATM. Quindi sulla base di questa valutazione vanno a stabilire quali sono le misure che ritengono più idonee, quindi dal controllo, da un rafforzamento del controllo degli accessi, alle misure per agevolare e supportare l'attività delle forze di polizia, alle misure per disincentivare il compimento dell'atto criminoso. Pensiamo ai dispositivi di erogazione temporizzata del denaro che chiaramente in questo modo viene meno proprio l'interesse del criminale a perpetrare la rapina, tanto per citare l'evento criminoso che più preoccupa per le conseguenze che ci possono essere per il personale e per la clientela. Per quanto riguarda invece per esempio gli atti criminosi dei bancomat, quando arriva ecco ci sono delle misure particolari visto che si sono verificate anche in Basilicata. Certo, certo, stanno utilizzando sempre di più le banche il macchiatore che si sta rivelando molto, quindi il sistema di macchiatura delle banconote, ma anche qui vale lo stesso discorso fatto per le rapine, quindi c'è una valutazione che le banche fanno e vanno a scegliere le misure di sicurezza nell'ambito dell'ampio panel di misure che va dagli allarmi al rinforzo delle misure di sicurezza, sia a protezione dell'apparecchiatura ATM e alla stessa vigilanza attraverso un controllo del territorio mirato per le apparecchiature che necessitano una maggiore sicurezza.